Ragazzi aspettate perché dobbiamo prima incontrare la cosa perché siamo uno di più. Santori, antifascismo e essere contro Salvini, ma non basta, non vediamo un programma concreto. E poi perché non vi dichiarate una forza di sinistra, visto che siete di sinistra, ma vi ammantate, vi nascondete dietro l'antipolitica? Non abbiamo mai dichiarato l'antipolitica, evidentemente qualcuno non è molto... Siete di sinistra? Qualcuno non è molto informato, abbiamo sempre detto che a un sindacato non gli chiedi se è di sinistra o di destra, ma gli chiedi di proteggere. Ma voi siete schierati col centro-sinistra? Ma non è importante. Non dobbiamo girare, risponda, non c'è nulla di male di essere di sinistra, tanto di rispetto. Ma io posso essere di sinistra, qualcun altro può essere di destra o di centro, ma non è importante. Sembra che vogliate scopiazzare di maio i Cinque Stelle, i nuovi Cinque Stelle riveduti e corretti. Il lancio delle sardine dal primo dicembre ad oggi... Risponda Santori. Il movimento è cresciuto, secondo te... Risponda. Questione Ilva, la chiudiamo o no? Noi non siamo qua né per dire se va chiusa l'Ilva né per dire... E che siete venuti a fare, a perdere tempo? Ma io sono venuto a conoscere delle persone. Scusate, ragazzi. Ma vedo che proprio siete non il nuovo che avanza, ma il vuoto che avanza. Ma tu chi sei? Il vuoto che avanza. No, no, no. Non sono della Lega. Come funzionano le espulsioni? Chi dissente viene cacciato? Se caccio tutti io. Come è successo a Petroni in Basilica? Allora, annuso la scella, se l'odore non mi piace li espello. È proprio così. Cosa c'è un problema di comprensione? Non siamo venuti qua? Io personalmente non sono venuto qua per parlare di decreti, non sono venuto... Scusate, che è venuto a fare, Passerella? Sono qua per... Come turista, in veste privata? I suoi legami con Prodi? Lei lavora per una... Scusami, Nassio. Lei scrive su un giornale cofondato da Prodi. Risponda. Risponda ai pescatori. Risponda, sì. Cosa fa il body? Risponda, con Prodi, che rapporto. Ti voglio bene. Mi dica, con Prodi. Mi risponda. Che legami ha? Lei scrive per energia, un giornale cofondato da Prodi. Chi te la deve? Dimmi, portami un documento in cui c'è scritto che Energia è cofondato da Prodi. Portami il documento. Te lo porto. Fammelo vedere, va bene. Non c'è troppo. Vai, vada, guarda. Sei legato a Prodi. Bene, Santori mi ha sfidato. Basta andare su internet, Energia, Comitato Scientifico e di Redazione, compaiono i nomi di Romano Prodi, quale garante, e nella redazione Mattia Santori. I loro nomi sono cerchiati in rosso. Come vedete, Mattia Santori mente sapendo di mentire. È davvero falso e bugiardo. Ecco la prova provata di quanto sostengo e ho affermato. Una domanda, una domanda. Chi vi finanzia? Chi vi finanzia? Chi vi finanzia, Santori? Chi vi finanzia? Il palco di Roma come quello degli U2, chi vi finanzia? Vogliamo sapere, risponde. Chi vi finanzia? Soros, Soros, Soros. Io gli ho dato 5 euro. E la foto con Benetton non è uno scandalo? Non è una vergogna? La foto con Benetton, rispondi. La foto con Benetton, con gli assassini di Genova, rispondi. Santori, sull'Ilva vorremmo sapere. Rispondi, dai. Rispondi. 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 No, io devo parlare con Santori. Hai già parlato. Leva le mani. Non ti permettere di alzare le mani. No, filma tutto. Non ti permettere di alzare le mani. Non ti permettere di alzare le mani. Non ti permettere. Sartori. Non ti... Ecco, filma, filma. E allora non spingete. Non spingete. Fallo, fallo se hai il coraggio. Fallo. Vedi come spinge. Fallo il coraggio. Tu chi sei? Cosa rappresenti tu? Io rappresento me stesso. Allora, io non devo essere spinto. Io non devo essere spinto. Le mani addosso non me le deve mettere nessuno. E no, non è che mi sto muovendo dal... E certo, certo. Stiamo facendo domande pacifiche, educate, di dissenso. Nel momento. Nel momento. Nel momento, esatto. Per poter correre delle dichiarazioni. Allora, puoi fare giustamente... Ma se non vuole risposta, rispondere. E non vuole rispondere. Ma per favore. E' la prima volta che le capita da giornata. E quindi... Va beh. E quindi è una cosa normale. Però le mani, le sardine addosso non le devono mettere. Ma lì non deve andare... Perché hanno detto... Perché... Perché sì... Quel momento stavano... Una cosa è il dissenso e una cosa è spingere. Io non ho spinto nessuno. Va beh, buona giornata. Buona giornata a noi. Buona giornata.